Cristo si regna, Cristo si regna, Cristo si regna. Cari suore, cari fedeli, San Gregorio Magno nella bellissima omelia sul Vangelo di questa domenica osserva che il riprovero che nostro Signore rivolge all'ufficiale Regio sembra quasi inopportuno. Se non vedete segni e prodigi non credete. Già, pare effettivamente inopportuno poiché per quest'uomo affranto per il male che gli stava uccidendo il figlio senza dubbio credeva. Come avrebbe potuto rivolgere a nostro Signore quella preghiera altrimenti se non avesse riconosciuto in lui questo potere soprannaturale di poter guarire il figlio da un male tanto grave. Credeva, sì, dice San Gregorio, ma la sua fede vacillò e per questa ragione meritò il rimprovero. Egli chiese infatti a Gesù di scendere e di risanare il figlio. Cercava una presenza corporea del Signore che era presente ovunque in spirito. La sua fede in lui quindi non era perfetta perché riteneva che non potesse operare guarigioni se non essendo presente col corpo. Se avesse creduto con una fede senza ombre, così prosegue San Gregorio, avrebbe senz'altro saputo che non poteva esserci un luogo escluso dalla presenza di Dio. Chiese la guarigione del figlio ma dubitò nella fede perché attribuì a colui dal quale era venuto il potere di operare guarigioni ma lo ritene assente dal figlio che stava per morire. Ecco quindi la condotta di quest'uomo è il motivo per cui fu giusto riprovero che nostro Signore gli rivolse. Vale appena allora domandarci qual è la nostra condotta nelle prove? Come si mostra allora la nostra fede? Conserviamo ancora la fiducia in Dio o piuttosto la nostra fiducia non viene meno anziché crescere proprio nelle prove e grazie ad esse? La privazione dei beni terreni, della salute, del denaro, della stima del prossimo ci avvicinano a Dio e ai beni celesti o non rendono piuttosto più tenace il nostro attaccamento verso quei beni di cui veniamo privati. Non è raro purtroppo vedere malati oramai prossimi alla morte confidare ancora nell'ultimo rimedio proposto loro dai medici. Questi poveri illusi sono talmente presi dall'assurda speranza di una guarigione che più delle volte trascurano la preghiera e quando ancora pregano non sanno chiedere altro che la salute. La salute di un corpo che presto perderanno mentre stoltamente trascurano l'anima alla quale tanto potrebbero giovare le pene che precedono la morte e l'accettazione rassegnata e l'offerta della morte stessa che apre le porte dell'eternità. Ma come potrà considerare un bene la sofferenza e la morte che durante tutta la propria vita le ha sempre fuggite come il peggiore dei mali? ci torni allora utile meditare le belle parole dell'epistola badate al modo di comportarvi non da stolti ma da sapienti approfittando di ogni occasione perché i giorni sono cattivi per questo non siate imprudenti ma cercate di comprendere qualsiasi la volontà di Dio. Il nostro agire per i fedeli deve essere da saggi e non da insipienti così soltanto potremo approfittare del tempo presente, dell'istante presente scorgendovi di volta in volta la volontà di Dio. Ma come farlo fruttare questo tempo? come renderlo davvero fecondo? Certamente tramite l'esercizio della virtù e la preghiera cercate di comprendere quale sia la volontà del Signore, prosegue San Paolo, non vi inebriate di vino, di quale causa lussuria, ma riempitevi dello Spirito Santo recitando dentro di voi salmi, inni e canti spirituali. San Paolo ci invita alla preghiera interiore, alla meditazione senza la quale difficilmente potremo progredire lungo la via della salvezza e senza la quale non potremo neppure esercitare le virtù così come Dio ci chiede. Quanto sono opportune allora le parole nell'antifona dell'offertorio. Lungo i fiumi di Babilonia noi sedemmo in pianto, ripensando a te Sion, parole che ben descrivono la tristezza dell'esilio e del pensiero consolante della parte lontana, della quale sentiamo una forte nostalgia e nella quale desideriamo con tutte le nostre forze ritornare. Questi versetti offrono inoltre una bella immagine della preghiera. La meditazione frequente, ripetuta, delle grandi massime, dei sublimi misteri della nostra fede, il richiamo costante nella nostra mente e nel nostro cuore dei beni che non passano, quanto sono profitevoli alla nostra anima, la quale giustamente deve considerarsi e sentirsi in terra d'esilio, lontana dalla patria e quindi deve compiere lo sforzo di non attaccarsi ai beni che passano, ai beni della terra che ci regano a sé e ci impediscono di salire al cielo. L'anima deve considerarsi e sentirsi in terra d'esilio o meglio ancora deve considerarsi in terra d'esilio per sentirsi in terra d'esilio, come potrò infatti desiderare un bene che non conosco e il desiderio poi sarà senz'altro tanto più grande e quanto più chiara e più precisa sarà la notizia, la conoscenza che ho del bene che m'attende. Ecco in due parole l'importanza dell'orazione mentale che ha proprio questo scopo, ossia di rendere attraenti per la volontà i beni celesti che non possiamo vedere né sperimentare. Proprio per questa lontananza essi sono resi a noi meno attraenti, benché oggettivamente migliori dei beni terreni, che invece ci sono più vicini e attraggono con tanta forza la nostra sensibilità e quale poi senza difficoltà e con grande frequenza purtroppo cediamo la nostra volontà che diviene quindi schiava delle passioni. Straordinaria efficacia alla meditazione soprattutto della passione di nostro Signore, la quale ci mostra il valore insostituibile della sofferenza che nelle tribolazioni e nel medesimo tempo il sostegno e il conforto più prezioso. Sapere, sapere certissimamente che le nostre sofferenze patite con la grazia e la meditazione delle pene di nostro Signore non soltanto non sono vane, ma sono proprio il gran mezzo di santificazione, quello strumento privilegiato di unione con nostro Signore Gesù Cristo, che così come non era lontano dal figlio morente dell'ufficiale Regio, allo stesso modo non è lontano da ogni anima che soffre e vuole soffrire con Lui. Nostro Signore, badate bene, torna dalla Giudea a Cana, in Galilea. Questo significa che quando le grazie non sono respinte, ma vengono accolte, esse sono foriere di nuove grazie. Verità questa ribadita dal postcomunio. Per renderci degni, Signore, dei Tuoi sacri doni, fa che obbediamo sempre ai Tuoi comandamenti. Disponiamoci allora a ricevere le grazie che Dio ha disposto di concederci praticando le virtù richieste del nostro Stato e soprattutto supplicando la grazia di riconoscerte, poiché spesso ci si presentano in quelle contrarietà che la natura ci induce piuttosto a fuggire. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e così sia, sia l'odato Gesù Cristo. Grazie.